sono tante leviazioni, non me le ricordavo Cristo, deberà andare in Pistarna Noi, non mi piace, non mi piace, non è Noi, non mi piace Adorando un altro Maia, non mi piace Maia, non mi piace Grazie a tutti e poi non mi ricordo aspetta che guarda che continua a furare il telefono non me lo ricordo secondo me è dritto è dritto potrebbe essere guarda se ci sono delle tracce di bici prima qua c'erano faccio un secondo se ci arrivavo ma di qua dire di no sembra tutto un po' troppo no qua no si si ma è dritto a me pare di ricordare dritto si ma è dritto si si no ma è dritto sicuro no il 7 ottobre ero a Madeira non metti quella non credo non metti quella no no ma è dritto è dritto si è qua si dai chi ha la ricerca delle tracce se voleva la guida indiana qua vuoi prendere il grandissimo fraccio del padre si si da qua andiamo no ecco le pagnotte ecco le pagnotte aspettiamo dai aspettiamole si si le famigelate pagnotte stavi cinghiando eh bastardone ahahahahah mamma 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 ce li abbiamo fatti due tre mamma ahahahahah ma che spettacolo ma che belli gli albusti si distinu vai fare una discesa di me vieni che veramente sai che fa che male se ti fai grazie grazie